Colosseo. Ho letto che il Colosseo, essendo un anfiteatro, presenta una sovrapposizione di logge, formate da archi esistenti su pilastri, che si svolgono armoniosamente su una pianta ellittica. Come mai un simile lavoro dell'ingegno era destinato a uno spettacolo in cui i gladiatori si uccidevano, alle ve naziones in cui i cristiani erano divorati dalle belve, alle battaglie navali e da spettacoli violenti? Commento. Perché l'umanità incarnata più di duemila anni fa aveva bisogno di spettacoli che soddisfacessero la sua bassa evoluzione. Grazie.